Attacchi incrociati a distanza in Austria tra i leader del partito di estrema destra FPO e i socialdemocratici di Christian Kern. L'accusa che l'FPO, insieme al governo con i conservatori del Premier Kursa, rivolto all'SPO, è quella di essere il partito dell'Islamo. Quest'uomo è davvero un pericolo per il nostro paese, ma vi prometto, noi ripareremo i danni che questi hanno provocato. La risposta di Kern non si è fatta attendere, il rischio messo in evidenza dal leader dei socialdemocratici è che l'attuale esecutivo possa procedere verso politiche nazionalpopuliste come quelle di Orban. In politica ci sono delle differenze, da un lato c'è un governo che soddisfa gli interessi dei grandi sponsor, dall'altro ci sono persone che sostengono gli interessi delle masse.